Prova Licksteiner. L'arbitro decide per la rimessa laterale nonostante le proteste di chi voleva il calcio d'angolo. Occhio cerca l'area di rigore. Può portarsi in vantaggio. E il pallone che è sopra la linea. Autogol. Non si darà pace per questo errore, ma purtroppo sono cose che capitano. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva.